Segna il vostro essere. Santa Maria delle Mole, la voce interiore, attraverso Roberta S., guide. Ognuno di voi è qui cercando qualcosa di diverso dagli altri. Siete tutti diversi, pur essendo tutti simili tra di voi e nelle vostre diversità, si espleta la vostra unicità. Rifiutate il vostro essere unici e rifiutate tutto ciò che non vi fa sentire uguali agli altri. Questo rifiuto segna il vostro essere e segna la vostra mente negativamente. Rifiutando ciò che vi compone, quello che siete, rifiutate la vostra esistenza, la vostra vita. I vostri ideali sono molto spesso gli stessi e tra di voi vi trovate d'accordo su molte questioni, ma poi vi sentite diversi per alcuni aspetti e sentite il distacco tra voi e quello che vi è accanto. Ricordatevi che non è nelle idee che troverete unione e non saranno le parole a mettervi d'accordo. Ciò che può essere amalgamato tra di voi è quel sentire che ancora non riuscite a capire e non riuscite a farlo semplicemente perché la mente non è fatta per comprendere a parole ciò che non si compone di parole. La vostra vibrazione interiore vi appartiene ed è vostra, fa parte di voi e vibra anche nella vostra mente. Voi siete la totalità di molte energie, di molti movimenti che avvengono dentro e fuori di voi e tutto questo può essere compreso fino a un certo punto dalla vostra mente. Dopo subentra quello spazio vuoto di voi che ancora non avete capito, in cui ancora non vi siete soffermati, ma che potete raggiungere anche con la vostra mente, perché con la vostra mente potete fare molte cose. Potreste per esempio farvi delle domande e cercare delle risposte, ma tutto questo deve avvenire con la consapevolezza che non saranno le risposte a farvi sentire appagati, ma la percezione di quelle risposte può arrivarvi sotto vari aspetti, sotto altre vibrazioni. Allora potete arrivare a percepire delle certezze che però non capite ed è bene che sia così, perché ciò che va capito, va capito per un motivo ben preciso. Ciò che invece vibra in voi deve vibrare affinché la vostra vita scorre in un certo modo e affinché questo avvenga, è importante che in voi ci sia la volontà di comprendere al pari della volontà di percepire e di assimilare energie diverse. Se voi ad esempio comprendeste con il vostro pensiero cos'è l'amore, vi trovereste a fare dei ragionamenti che non servono al vostro amore, che invece appartiene a quella parte di voi più spontanea e più interiore, che è già presente in tutti voi, ma che viene spesso soffocata proprio da quella parte che vuole comprendere, perché molto spesso per voi comprendere significa spezzettare, significa guardare da lontano e analizzare, senza necessariamente toccare. Continua.